Allo state per vedere la strada, anzi più che altro la curva degli emigranti. Si trova in Nevegal, alla vostra sinistra vedete sono tre pini con delle insegne ormai datate. All'andata, adesso stiamo tornando indietro, vedete questi grandi tre pini che rappresentano il simbolo della nostra associazione. E appunto, in queste indicazioni ormai rovinate, datate, che sono da rifare, rappresentano i cinque continenti appunto con le scritte, una vista della strada che porta Nevegal e la parte appunto centrale, questi tre pini e la strada che continua. Vedete ci sono le indicazioni, i bielonesi nel mondo ormai vecchissime, con l'Australia, l'America e quant'altro, l'Asia, ma tutte rovinate, con tanta ruggine, scolorite, è tutto da rifare, si tratta di capire che tipo di progetto grafico. C'è anche una bandiera da cambiare e da fare una pulizia generale anche della parte sottostante. Anche la bandiera appunto è da cambiare, vedete che è anche all'interno degli alberi, non si vedono più, quindi capire dove si possa posizionare anche il pallo con la bandiera stessa che rappresenta ovviamente l'Italia. Un'altra vista, i tre pini, quindi c'è questo centro, questo cerchio con la scritta Berlusi nel mondo e cinque cartelli. Tutto qui.